Impressione, andiamo con i risultati allora della diciottesima giornata del Girone C, Potenza Messina 0-0, Juve Stabia Virtus Francavilla 3-0, Avellino Taranto 0-0 con Capuano che schiuma rabbia per un episodio molto contestato al 94esimo minuto, Monopoli Crotone 0-3, Monterosi Turris 3-3, la Turris perdeva 2-0, poi è andata sul 3-2 nel recupero, il gol del Monterosi per il 3-3. Brindisi Picerno 1-1, Cerignola Foggia 2-0 all'audace il derby pugliese ricordando il playoff della passata stagione, Casertana Giuliano 3-1 con un gol da centrocampo di Alessio Curcio, Catania Sorrento 0-1 come detto il gol di De Francesco per espugnare il massimino Latina Benevento 0-0. La classifica dopo 18 giornate recita così, l'andiamo a vedere Juve Stabia come detto campione d'inverno 39, Picerno e Casertana 34, Crotone 32, Avellino 31, Benevento e Taranto 30, Latina 27, a 25 ci sono Cerignola e Giuliano, 22 punti per Foggia, Sorrento e Catania, 20 il Potenza, a 18 il Monopoli e il Messina, Francavilla e Turris 17, Brindisi 14, Monterosi 10 punti. Siamo pronti? Io ho anticipato i temi, i risultati, ma ci dice tutto nel suo editoriale. Luca Esposito. Eccoci, allora partiamo dalla Juve Stabia, Juve Stabia che sicuramente è la...